La pace dei santi sia con voi. Domenica 19 aprile 2015 la Chiesa celebra la terza Domenica di Pasqua. Il 19 aprile la Chiesa celebra la memoria di sante spedito di Melitene, martire. Tra tutti i componenti del gruppo dei santi martiri di Melitene del III secolo, celebrati il 19 aprile, insieme con Ermogene, è spedito solo, ha goduto di un culto popolare assai diffuso, anche se soltanto a partire da un'epoca abbastanza recente. Siccome il martiriologio geroniminiano, dal quale dipendono tutti i martiriologi che fino al romano hanno trasmesso il nome di espedito, indica solo il nome del santo martire, è assolutamente impossibile avere notizie precise sull'epoca della sua vita e del suo martirio. Del culto di espedito si trova traccia in Sicilia dalla metà del XIII secolo, specialmente a Messina e a Cireale, dove nel 1781 il santo fu proclamato patrono secondario della città e veniva venerato come protettore dei mercanti e dei navigatori. L'iconografia tradizionale lo rappresenta vestito da soldato romano, mentre tenta di scacciare un corvo che grida, mentre il santo mostra un orologio che indica odie, che significa oggi. In raffigurazioni più tarde l'orologio viene sostituito dalla croce che il santo tiene in mano. Il 20 aprile la chiesa celebra la memoria di Sant'Endellienda. Figlia del re gallese Brichon, Endellienda si stabilì in Cornovaglia, vicino al monastero del fratello San Nectan. La memoria di Endellienda vive nel nome del luogo Endellion, sulla manica di Bristol, dove essa venne sepolta. La sua tomba, distrutta ai tempi di Enrico VIII, venne in seguito restaurata e collocata quale altare all'estremità della navata sud della sua chiesa. La cappella di Lendi Island, che porta il suo nome, le fu dedicata perché ebbe forse in quel luogo un romitorio vicino a San Nectan. La sua festa è celebrata il 20 aprile, ma a Sant'Endellion le celebrazioni in suo onore avvengono nel giovedì dell'ascensione e nei due giorni successivi, specialmente al sabato. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di Sant'Espedito e di Sant'Endellienda. Auguri a quanti il 19 e il 20 aprile festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.